Di nuovo a Torrempietra sulla via Aurelia dove c'è un corteo di protesta, esattamente il quarto indetto dai cittadini e dal comitato rifiuti zero Fiumicino. Come potete vedere ci sono anche nuovamente degli animali, le strade sono praticamente in tilt, disagi enormi per gli automobilisti, anche prima ci sono stati momenti di tensione in quanto alcuni automobilisti hanno insultato i manifestanti. Dobbiamo dire che il caldo torrido non ha bloccato le migliaia di persone che sono qui sulla via Aurelia, davvero una grande afa ma la popolazione ha voglia di protestare e ovviamente è allarmata da questo problema. Siamo andati a vedere la discarica di vicino Pisa e c'è solo un paese di 200 abitanti e intorno non c'è niente per chilometri e chilometri, quindi vogliamo giustizia, no alla discarica e incominciamo i rifiuti porta a porta. Noi come comune ci stiamo dando da fare per portare al 100% il porta a porta e cercando di fare un compostaggio per dividere e riusare la mondezza. Io spero che tutti quanti i comuni facessero in questo modo e quindi si evitano tutte queste manifestazioni che sono belle però diamo un po' fastidio alla gente che deve venire qua. Io spero che non si faccia questo tipo di intervento a Castel Campanile ma si ritorna indietro parlando di politica e di problemi della gente su un tavolo concertato di tutti quanti i comuni sia della zona che della regione Lazio. Anche da Cervetri Terzi a protestare, due simboli della protesta, i bambini e gli animali. Perché? Perché dobbiamo far passare l'idea che la raccolta differenziata, il porta a porta, il riciclaggio e il riutilizzo è l'alternativa, anzi l'unica alternativa all'incenerimento e alla creazione di discariche che inquinano e avvelenano. E' intollerabile intanto il metodo, non siamo mai stati coinvolti nella decisione della regione, è intollerabile il fatto che si pensi di poter decidere sul territorio degli altri comuni e poi è intollerabile che praticamente nel giro di pochi chilometri ci sarebbero due discariche. Musica 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 Don Luigi Bergamini, il parroco dei terzi, la Polverini ti ha risposto, ha detto che devi pensare alle tue anime, tu cosa rispondi alla Polverini? Dico che l'anima e il corpo non si dividono, la persona e il cristiano è sempre uno. La Polverini, prima di parlare, venisse a parlare con la gente qua. Non parli tramite i giornali dicendo cazzate varie, venga qua a parlare con la gente, non si circondi di esperti che dicono che gli inceneritori non inquinano. Non è vero, sono esperti pagati, esperti che dovrebbero andare a casa. Perché la gente non è stupida, hanno perso il referendum sull'acqua, adesso porteranno anche il referendum sulle inceneritori, vogliamo l'aria pulita, se non è capace di fare la governatrice, se ne vada a casa. Perché devono fargli affari qua? La gente è stanca, l'immondizia non è qualcosa in cui si può speculare e neanche sulla salute della gente. E poi ricordiamo sempre che c'era un ospedale a pochi passi. Penso che il problema dei rifiuti sia un problema da risolvere globalmente, i comuni devono essere messi in rete, penso che i problemi di Roma non possono essere scaricati sui comuni della fascia metropolitana, della fascia provinciale e penso che le aree periferiche dei comuni delle fasce metropolitane che hanno già tanti problemi non possono poi prendersi i problemi di altri. I cittadini devono tornare a essere protagonisti nelle scelte e delle soluzioni dei problemi che ci sono. Noi abbiamo difeso il nostro territorio con le unghie e con i denti, fino a qualche anno fa dalla minaccia della costruzione di una nuova discarica sappiamo benissimo quanti e quali guai porta la presenza di una discarica su un territorio, quale ferita costituisce per un territorio a vocazione agricola e turistica e quanto invece sarebbe importante sviluppare questi territori in tal senso, nel senso del rispetto delle vocazioni dei territori, sviluppando l'agricoltura e favorendola creazione di posti di lavoro in provincia. Crediamo veramente che la risposta non sia la discarica e l'inceneritore ma la risposta sia un altro modello di sviluppo che non preveda più discariche e inceneritori ma che preveda una raccolta differenziata porta a porta, spinta fino ad arrivare a rifiuti zero, perché si può, si può arrivare a rifiuti zero. Roberto Ricci, proprietario dell'agricolturismo I4 Ricci a Borgo San Martino, siete ovviamente preoccupati perché a linea d'aria l'inceneritore sarebbe a pochissimo da voi? Siamo da noi, linea d'aria sarà diciamo a un chilometro, un chilometro e mezzo e per tutto il territorio è un problema. Poi noi stiamo lottando per rendere questa zona agibile al turismo, visto che il settore agricolo ormai è arrivato alla stregua e questa sarebbe l'ennettima stancata. Anche voi bloccati? Purtroppo sì però... Quando voi hanno ragione a protestare? Certo. Siete bloccati, ma poggiate questa iniziativa? No, no poggiamo, poggiamo sì. Qual è il suo slogan sulla bicicletta? Siamo passati dall'agricoltura alle polveri settili. Quindi cresce sempre più il timore? No, e cresce il disprezzo verso la gente che lavora, verso i contadini e verso le produzioni. Signora, bloccata sull'Aurelia? Bloccata sull'Aurelia, sì. Dove deve andare? Al mare, abbiamo appuntamento con altri amici. Dove? A Maccarese. Comunque si ha, poggia l'iniziativa? Sì, certo, è giustissima come iniziativa, va benissimo. Dove vive lei? Noi viviamo a Castelnuovo di Porto, a Capene, anche lì c'è lo stesso problema. Sì, ha la raccolta porta a porta, no agli inceneritori, non va bene. Venite da Valcanneto? Sì, vengo da Valcanneto, ho sentito che c'era stata dimostrazione e sto volentieri, anzi non sono nemmeno attrezzato per fare un po' di casino. Però avete paura comunque? Sì, se sto qui vuol dire che… cioè, paura. Allora, io comunque spero che la paura passi perché non facciano, insomma, non debbano fare quello che stanno pensando di fare qui. Ecco, è lo stesso problema. Soddisfatto oggi c'è più gente? Oggi c'è il doppio della gente, oggi abbiamo finalmente raggiunto il risultato visibile di dire che questo territorio ce lo stiamo riconquistando settimana per settimana. La presenza dei quattro sindaci e l'assenza di quello di Fiumicino comprova che evidentemente c'è una classe politica che non tiene conto della volontà dei cittadini. Era la giornata ideale per andare al mare, però abbiamo tre bambine, loro tre, e anche lei nel passeggino e lei nella pancia. Mi sembra proprio un ottimo motivo, anche perché noi stiamo a Pallidoro, abbiamo una fattoria didattica, e proprio questa discarica, inceneritore, perché poi ci sono molte voci contrastanti, saranno proprio sulla collina di fronte alla nostra fattoria. Lei è preoccupata per il futuro delle sue bambine? Per forza, anche del mio. E che cosa chiede alla Polverini? Cosa chiedo? Ci vuole parlare direttamente in questo momento, vuole fare una richiesta. La raccolta differenziata. Io ho due sorelle che vivono all'estero e la fanno tranquillamente, quindi penso che sia possibile farla proprio. Non è possibile che ancora si vada avanti con questa forza. La quarta manifestazione sulla via Aurelia Torrenpietra si sta concludendo. Due fatti importanti, lunedì alle 18.30 si terrà l'assemblea al Casale del Castellaccio, a via Castel Campanile, mentre Massimo Piras, il comitato rifiuti zero fiumicino, ha annunciato anche per mercoledì un sit-in direttamente alla Pisana.